Ciao a tutti. Siete nel canale Impulso della Terra. Ricordatevi di iscriversi nel canale per essere sempre aggiornati di ultimi notizie. Buona visione. Le forti piogge torrenziali che sono cadute in Indonesia nelle ultime settimane hanno portato a un forte aumento del livello dei fiumi. Decine di case nel villaggio di Kapar, distretto di Yatinegara, sono state allagate, con il livello dell'inondazione che ha raggiunto un'altezza di un metro e mezzo. Ciò è dovuto allo straripamento del bacino del fiume Cacavan e al suo straripamento. I media locali riferiscono che nessuno è rimasto ferito in questo disastro, ma, secondo stime preliminari, la proprietà di molti residenti è stata danneggiata. Questa inondazione improvvisa ha inondato anche le risaie della gente del posto. Molte strade sono bloccate dalle inondazioni, il traffico è paralizzato. È impossibile stabilire i danni dell'alluvione stessa, poiché l'acqua si sta ancora accumulando nell'area allagata ed è ancora molto problematico raggiungere alcune aree. Secondo i meteorologi, le piogge non si fermeranno fino a lunedì. Febbraio nella regione di Ulyanovsk è iniziato abbastanza attivamente. Nei primi giorni a Ulyanovsk e nella regione sono cadute precipitazioni mensili. Le utility continuano a lavorare per eliminare le conseguenze di una nevicata. In alcune zone, l'altezza dei cumuli di neve supera i 50 cm. Le conseguenze delle abbondanti nevicate non sono state ancora eliminate. I servizi pubblici hanno molto lavoro, continuano a lavorare 24 ore su 24, con turni rafforzati. Alla regione è stata diramata l'allerta meteo gialla. I meteorologi prevedono un significativo deterioramento delle condizioni meteorologiche nella regione di Ulyanovsk nei prossimi giorni. Secondo le previsioni, nei giorni 9 e 10 febbraio sono previste forti nevicate in alcuni punti. È probabile che la neve bagnata si attacchi e si formi nevischio sulle strade. Le autorità stanno chiedendo in modo convincente ai residenti locali di non utilizzare veicoli privati, se possibile, in questi giorni. La terra scivola via da sotto i tuoi piedi, a Krinsk, durante l'alluvione, il fiume aeroso le sponde. I residenti di Adagamskaya Street, le cui case sono molto vicine all'abisso, stanno suonando l'allarme. I lavori per rafforzare la costa sono iniziati nell'estate del 2021 e sono stati completati a dicembre. Ma il tempo si è rivelato più forte e la scogliera si avvicina ogni giorno agli edifici. Secondo i residenti, un tempo si trovava a 10 metri dal bordo della riva alle case, ora sono solo pochi passi. Il livello dell'acqua è sceso, l'attrezzatura è stata in grado di entrare nel canale. Tuttavia, dobbiamo lavorare rapidamente, perché secondo le previsioni, nella regione di Krinsky sono previsti di nuovo rovesci, scioglimento della neve, aumento del livello dell'acqua nei fiumi e aumento del vento. Una forte tempesta di neve ha colpito la Greater Toronto Area in Canada la notte del 9 febbraio. Sulle autostrade, auto, camion e autobus rimangono bloccati nella neve. Questa è la seconda tempesta invernale improvvisa che colpisce Toronto questo mese. Ricordiamo che il primo temporale invernale è stato registrato il 18 gennaio 2022, e ha portato abbondanti nevicate, che hanno lasciato cumuli di neve fino a 60 centimetri di altezza. Questa tempesta invernale non è stata così forte. Le raffiche di vento non hanno superato i 25 metri al secondo e l'altezza del manto nevoso in alcuni punti ha raggiunto i 40 centimetri. La polizia è stata costretta a bloccare le principali autostrade. Un'allerta meteorologica estrema è in vigore in gran parte del sud-est del Canada. Secondo i meteorologi, entro due giorni a Toronto cadranno fino a 60 centimetri di neve. Allo stesso modo, Meteorologist Canada ha emesso un avviso di bufera di neve per gran parte del Saskatchewan meridionale, comprese le aree e le città circostanti. Una grande eruzione si è verificata presso il vulcano Sanghei in Ecuador. Il vulcano ha gettato cenere a un'altezza di 5 km durante una forte eruzione, registrata alle 9 e mezzo ora locale. Significative cadute di cenere si sono verificate nelle comunità vicine, coprendo veicoli, case e raccolti. Le autorità hanno esortato i residenti locali a mantenere la calma e ad adottare misure per proteggere la loro salute. Durante la caduta della cenere, dovresti limitare la tua permanenza in strada, se necessario, usa una maschera protettiva quando esci di casa. Durante l'eruzione del vulcano Sanghei nel settembre 2020, sono stati colpiti più di 11.000 ettari di colture, che hanno influito sulla vita degli agricoltori. Il vulcano Sanghei si trova a est della dorsale andina ed è il più meridionale dei vulcani dell'Equador, rimanendo il più attivo, ed è caratterizzato da colate laviche e piroclastiche, nonché da emissioni di cenere e gas. Il Brasile continua la peggiore siccità degli ultimi decenni. Mentre alcune regioni sono abbondantemente irrigate con forti piogge, migliaia di persone soffrono di inondazioni e smottamenti, il sud del Brasile soffre di un'incredibile siccità. Il Brasile, uno dei giganti dell'agricoltura mondiale, sta vivendo la peggiore siccità da quasi un secolo. Secondo i media locali, la mancanza di pioggia comporta enormi perdite per gli agricoltori e il governo deve passare a un'energia più costosa proveniente dalle centrali termiche, il che a sua volta aggrava l'inflazione. A causa della siccità nel paese, i prezzi di cibo ed elettricità sono già aumentati. Di conseguenza, l'inflazione ha raggiunto la doppia cifra. Il disastro ha colpito anche il settore agricolo. Non ci si aspetta più un ricco raccolto nel paese. Tuttavia, come la pioggia. Loro, secondo le previsioni, non saranno almeno altre due settimane. A seguito di avvisi arancioni emessi dalla Direzione Generale Meteorologica di Istanbul, forti piogge hanno danneggiato Pendik Gokili. A causa dell'allagamento del torrente, le serre circostanti sono state allagate. Frutta e verdura in serra che soddisfano le esigenze di Istanbul sono state allagate. In sei ore sono caduti 50 mm di precipitazioni, apparentemente non molto, ma questa quantità è stata abbastanza per far salire il livello di inondazione a 40 cm in alcuni punti. I residenti locali hanno notato che in precedenza, dopo forti piogge, non c'erano inondazioni qui e che la colpa era della costruzione di un nuovo ponte e della diminuzione del letto del torrente. Non è ancora possibile valutare l'entità del danno a causa del mancato accesso ad alcune aree. I meteorologi avvertono che la situazione potrebbe peggiorare molto, poiché sono previste forti piogge prima del fine settimana. Le piogge del giorno prima a Istanbul hanno provocato una voragine in uno dei quartieri della città. Il crollo è avvenuto davanti a un edificio di tre piani nella zona di Kadikoy. Le telecamere di sorveglianza che hanno registrato il momento del fallimento mostrano come un passante sia caduto in questo fallimento. Dopo il crollo si è formata una buca profonda 5 metri, i residenti che vivevano nell'edificio vicino al quale si è verificato questo evento sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia. L'uomo è riuscito a salvarsi, mentre è scappato con il solo timore. I vigili del fuoco e le unità di polizia hanno adottato misure precauzionali nella zona circostante. Ieri sera c'è stata una grande frana in Colombia. Nelle ore in cui molti residenti sono stati ancora soccorsi, parte della roccia è crollata improvvisamente su una delle aree residenziali, seppellendo diverse case sotto un cumulo di pietre e uccidendo almeno 14 persone. 35 persone sono rimaste gravemente ferite, una è scomparsa. Secondo le autorità locali, l'incidente, avvenuto nei pressi della città di Pereira, è stato causato dalle forti piogge che hanno colpito la provincia alcuni giorni fa. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno evacuato più di 15 case situate in una zona pericolosa. Tutte le forze degli insediamenti più vicini vengono attirate per eliminare il blocco. Anche i locali non sono esclusi. Centinaia di volontari stanno assistendo i servizi di emergenza smistando i detriti e aiutando a rimuovere le vittime. Ma nonostante tutti gli sforzi, il numero delle vittime continua a crescere. A causa del rapido cambiamento di temperatura a largo della costa della Palestina settentrionale, si è formato un gigantesco tornado. I residenti locali sono riusciti a catturare in video un raro fenomeno naturale, la danza di un turbine sul mare. Il tornado non è atterrato, quindi non ci sono stati danni. Una tromba d'acqua è un vortice aria-acqua a forma di imbuto che si forma sopra la superficie di un grande specchio d'acqua ed è collegato a un cumulo. Può formarsi nel caso del passaggio di un normale tornado sulla superficie dell'acqua. Di solito dura solo da 15 a 30 minuti. Molto spesso, tali tornado possono essere osservati alle latitudini tropicali. Terremoti sulla Terra. Durante il giorno, sulla Terra si sono verificati 101 terremoti di magnitudo da 2.0 a 6.2, esattamente dove, potete vedere sui vostri schermi. E ovviamente un momento di positività sul canale. Gli spizzi in miniatura sono animali meravigliosi. Le loro piccole dimensioni e il mantello incredibilmente spesso e soffice non li fanno sembrare cani vivi, ma come giocattoli. La moda dei cani di piccola taglia, che potevano essere tenuti in boudoir e portati a mano, iniziò più tardi, già nel XIX secolo. Fu allora che la regina Vittoria si occupò personalmente dell'allevamento di una piccola copia dello spizzi tedesco. L'antenato del Pomerania, compresa la varietà nana, era un cane di nome Marco, il cui peso era di 5,4 kg. I pomeraniani nani si distinguono per la loro disposizione allegra, giocosità e devozione ai loro proprietari. Non possono essere definiti coccolati o fragili, sono animali attivi e mobili che amano correre e giocare. Grazie per aver guardato il video. Se vi piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscriversi nel mio canale per essere sempre aggiornati di cataclismi della pianeta.